Amici di Blog Sicilia, intanto un saluto a tutti i lettori di una delle testate più importanti della nostra regione. Grazie per il supporto che spero attraverso Blog Sicilia arriverà. Viva Guiliano Marconi il talent, entro lunedì si potrà votare e cliccare, si può votare ogni ora. Per Viva Guiliano Marconi il talent di Radio 2, supportatemi, mi raccomando, cliccate Vincenzo Canzone, il pallino, poi votate. Quindi speriamo che io che rappresento ancora la Sicilia in questo talent, si possa andare avanti alle semifinali. Intanto ci proviamo e grazie a voi che leggete ogni giorno Blog Sicilia. Bye bye!